In canoa per ripulire il sile. La previsione di raccogliere 12.000 kg di spazzatura di cui il sile purtroppo è pieno, specie di plastica e polistirolo. Obiettivo da raggiungere in tre mesi per 900 ore di lavoro. Si tratta del terzo esempio al mondo di un'attività del genere, il primo in Italia. Il sile rappresenta una realtà importante da valorizzare. C'è l'interesse e la volontà di tutti i comuni di valorizzare questa risorsa, di renderla anche fruibile dal punto di vista turistico. Con Contarina ad aderire al progetto tutti i 50 comuni associati al Consiglio di Bacino Priula. Oggettivamente ci sono dei problemi, li abbiamo visto anche nel sopraluogo, perché dove c'è l'uomo c'è immondizia e tutti assieme abbiamo fatto una cosa importante. Ad occuparsi fisicamente della raccolta dei rifiuti galleggianti, come pure di quelli abbandonati sulle rive del corso d'acqua, un'associazione di volontari di Roccade. Purtroppo all'interno del fiume si trova di tutto, anche rifiuti pericolosi, rifiuti speciali, ci sono ingombranti. Dobbiamo fare appello alla sensibilità della gente, perché il sile non è un recettacolo di rifiuti e va rispettato. Se vogliamo lasciare una situazione migliore di quella che abbiamo trovato... Grazie a tutti.